Biometano e composti di qualità nel rispetto della salute e dell'ambiente. Venerdì 5 marzo siamo nell'auditorium di Marche Multiservizi a Pesaro, dove la società che gestisce tantissimi aspetti della nostra vita di tutti i giorni ha organizzato un incontro pubblico destinato alla conoscenza del biodigestore che sarà realizzato a Talacchio. Un incontro davvero interessante. Sono stati chiamati dei relatori importanti, dei relatori d'eccezione che dovranno affrontare l'argomento dal punto di vista scientifico anche proprio per entrare nel merito di quelle che sono le questioni più importanti legate soprattutto ai rischi o meno della salute delle persone e dell'impatto ambientale che avrà questo biodigestore nella zona dove sarà costruita. L'obiettivo era proprio quello di dare la giusta e corretta informazione, una comunicazione nei confronti del cittadino e delle troppe e tante notizie fuorvianti che sono venute fuori in questi ultimi tempi. Il biodigestore anaerobico e compostaggio penso che sia un livello di impiantistica importante per il nostro territorio che va nella giusta direzione dell'economia circolare di completamento del ciclo dei rifiuti organici, degli sfalci e delle potature. Proprio pensando a tutto quello che è economia circolare, green job e next generation EU dobbiamo sempre di più credere fortemente che questo tipo di percorsi, questo tipo di impianti può essere la risposta giusta all'interno dei territori per creare innovazione e essere citati come esempi virtuosi all'interno dei processi e non andare sempre a portare degli esempi che vengono da territori lontani. Marche Multiservizi, in questo caso Green Factory, vogliono dimostrare nei fatti quello che hanno sempre fatto, cioè mettere a sistema la qualità della vita e la qualità ambientale. Professor Davoli, in linea di massima quindi non ci dovrebbero essere dei problemi per la salute di coloro che abiteranno nell'area circostante del biodigestore considerato anche il fatto che comunque si parla come minimo di 8-900 metri delle abitazioni più vicine rispetto al sito. Tutta la parte di digestione anaerobica avviene in un impianto completamente chiuso, quindi l'impianto funziona in anaerobiosi senza aria, quindi non perde, non entra e non esce niente di quello che si forma lì dentro. Fra l'altro quest'impianto diminuisce l'inquinamento perché leva lo zolfo, l'idrogeno solforato, che poi è uno dei responsabili delle formazioni dei cattivi odori. Noi abbiamo pubblicato un lavoro in cui abbiamo fatto vedere che questi impianti diminuiscono l'odore degli impianti di compostaggio che seguono. Amministratore delegato di Green Factory Mauro Tiviroli, il biodigestore sarà un impianto veramente importante, avrà un grande impatto da tanti punti di vista, oltre che quello ambientale avrà un impatto molto importante anche dal punto di vista sociale perché lei nella sua presentazione ha detto che saranno comunque impiegate almeno 40-50 persone nella costruzione e nella realizzazione dello stabilimento e poi una quindicina ci lavoreranno a tempo si può dire prolungato e indeterminato per il suo mantenimento. Confermo, sicuramente ha un impatto occupazionale importante sia nella fase di realizzazione, infatti sono stimate 40-50 unità nelle imprese che lavoreranno alla costruzione, in quelli che ovviamente costruiscono la parte tecnologica, così come saranno necessarie 14-15 unità per la sua gestione. Quindi avrà un impatto occupazionale che anche dal punto di vista sociale si va ad aggiungere a quello che secondo me è un contributo altrettanto significativo nel contenimento dei costi della Tari perché con un impianto locale smetteremo di portare i rifiuti in giro per le altre regioni e quindi i cittadini potranno beneficiare di questo minor costo che si può essere stimato in circa un milione all'anno e quindi, come dico io, a me piacciono le moltiplicazioni, in dieci anni i cittadini della nostra provincia potranno risparmiare circa 10 milioni di minor costi nella Tari.